Ciao. Parola d'ordine. Claudio, sono io Vanessa. Non è questa la parola d'ordine. Oh, dai, dammi su sta roba. L'hai portata? Claro che sì. È roba buona? Buonissima. Sei sicuro? Ehi, vai, provala. Caro, ma c'è un busto di gesso di Giulio Cesare nel letto. Claudio, non fa ridere. Vabbè, certo. Manca la chiusa. Se la vuoi, sai cosa dobbiamo fare, vero? Certo. Zeilig, prossimamente su Canale 5.